E' stata rinviata al 14 giugno l'udienza presso il Tribunale di Bari sul processo con giudizio immediato nei confronti di sei indagati nell'ambito di un'inchiesta che riguarda le accuse di estorsione tentata e consumata ma anche di usura con l'aggravante del metodo mafioso ad Andrea. Si entra nel vivo dunque nella vicenda giudiziaria che ha visto tra settembre ed ottobre dello scorso anno arresti di alcuni esponenti del clan Pesce di Andrea. Questa mattina l'udienza davanti al GUP del Tribunale di Bari Ronzino con il rinvio al 14 giugno a causa di una mancata notifica. Un'udienza in cui tuttavia è emersa la volontà di ordine degli avvocati di Trani e Comune di Andrea di costituirsi parte civili nel processo che vede coinvolti i fratelli Oscar Davide e Gianluca Pesce rispettivamente di 34 e 36 anni entrambi in carcere dal 29 settembre scorso. A processo anche Michela Altomare Caldarone 28 anni, Giuseppe Loconte 22, Nicola Marino 32enne e l'avvocatessa Tiziana Favullo 50 anni. Le accuse di estorsione e usura con metodo mafioso arrivano dal PM della direzione distrettuale antimafia Daniela Chimienti. Il primo episodio contestato è quello relativo alla presunta estorsione e i danni di un agente della polizia locale, Andriese, ma in servizio a Barletta, coinvolto in un sinistro stradale con Michela Altomare Caldarone, compagna di Oscar Davide Pesce. Quest'ultimo avrebbe minacciato il vigile urbano costringendolo a riparare a sue spese l'auto della donna senza presentare denuncia all'assicurazione. Quanto all'avvocatessa Favullo, l'episodio chiave sarebbe un presunto prestito usuraio che i pesci avrebbero concesso ad un giovane commerciante. A fronte di un debito iniziale di 23 mila euro, il giovane avrebbe dovuto restituirne quasi il doppio dopo appena un mese. Motivo per cui la mamma del giovane, preoccupata per le minacce indirizzate al figlio, si rivolse proprio all'avvocatessa, indagata, che nel frattempo stava curando per conto suo la pratica relativa alla vendita di un immobile. Secondo l'accusa, la civilista organizzò nel suo studio un incontro con il clan Pesce con l'obiettivo di dilazionare il pagamento e dimostrare sempre, secondo quanto emerso dalle indagini, che grazie alla vendita di quell'immobile la donna avrebbe potuto saldare il debito del figlio. L'avvocatessa Favullo, in sede di interrogatori, ha sempre respinto le accuse, sostenendo di essere completamente strane ai fatti. Nel frattempo il 14 giugno prossimo potrebbero già arrivare le richieste del PM.